Carpopper Quali sono le loro riflessioni? La corrente psicoanalitica, anzi poi sarebbe meglio usare il plurale, le correnti sono presentate dai marxisti convinti o Kobe Aist Scienza legittime, rigorose, che gli ha dato maggior celebrità, è il titolo della traduzione inglese L'originale è pubblicato, che ospetano questo, della grande tradizione filosofica Devono essere come le galline, le orore hanno un ruolo fondamentale, si aprono a quel controllo Le grandi leggi scientifiche, se ne abbiamo visto, possiamo esaminarne moltissime Che tutti i cini sono bianchi Cini neri e cini bianchi popolano la storia, aggiunge J. Popper Non sono state, si dice adesso, spiegazioni ad hoc Che giustificano e cercano delle scuse Né nella prima trappa, te grandi, nella enciclopedia Fare request non è facile Distruggere l'edificio tirato su, per sostituirlo da uno diverso Migliori, gli standards reali sono soltanto gli atti Non è legata soltanto ai testi che ho finora citato Del 1944 il primo volume si intitola In cui la critica viene considerato dei veri e propri incubi Grande critica del totalitarismo come impostazione politica In una serie di interventi, quando gli utopisti o gli storicisti Scienza e tecnica, dove la storia ci sta portando? La domanda è, c'è gruppo di ricercatori Ci innamoriamo di quel problema Che di un altro Siamo capaci di migliorarci Delle società chiuse del passato Diceva già Platone Per eliminare questa democrazia Al grande esperimento democratico Ma la cosa più interessante Ci dice Popper Corrette e udaci esperimenti di vita La simpatia per i dissenzienti Di schiacciare questi dissenzienti Il meglio della filosofia in Inghilterra Profondo marazzurro Il quale voleva andare Da autoritaria repressiva Dalle intuizioni creative dei singoli scienziati Una disciplina senza soggetto Il modo concreto I mezzi di comunicazione Coloro che hanno in mano Per arrivare Pretende di essere irresistibile Opponeti col doppio della forza Diciamo che Popper Non ci ha insegnato a vincere Grazie a tutti Grazie a tutti